Ciao ragazzi, ci alleniamo adesso sul controllo dorsale, uno slalom, e poi andiamo a fare un passaggio di precisione nella porticina. Guardate. 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 Avete visto quando siete a casa? Fate esercizi dinamici che vi permettono di fare tante volte le gestualità. Ciao ragazzi, iscrivetevi, commentate e lasciate un like. Ciao a tutti.